I gruppi che si ispirano al fascismo vanno sciolti, vanno sciolti, non c'è posto per loro nel nostro paese, nella nostra Repubblica che è antifascista. Io ci tenevo a dire questo in questo luogo che rappresenta la forza della città di Milano nei confronti del fascismo. Qui è iniziata la liberazione ed era qui che bisognava affermare questo concetto. Vi ringrazio.